Ciao a tutti, è in corso la commissione bilancio dove hanno consegnato questo, questo è il maxi emendamento di giunta al bilancio, sono 72 pagine e pretendono che noi facciamo dei sub emendamenti a questo maxi emendamento, delle modifiche, entro le 17 e 30, ora sono le 17 e un quarto, no, ma i 20, noi vi dovremmo leggere tutta questa roba, chissà che ci hanno messo dentro e devono andare. E' importante quindi evidenziare questo aspetto, i cittadini che ci siamo così vengono votati in bilancio, quasi 7 miliardi di euro della città di Roma, la città, la capitale d'Italia, non è la più totale capacità. Ebbene, le sedute come vedete alle nostre spalle, la sloge è sospesa da più di 4 ore, dalle ore 13, non è successo nulla e poi all'ultimo minuto spuntano fuori questi maxi emendamenti che sono a 70 pagine, piene di numeri con modifiche a più in un posto che dovrebbero essere lette ed esaminate in pochissimi minuti, quindi così nella completa opacità, le sedute sono sospese, vanno avanti a sigliozzo, poi spuntano fuori questi maxi emendamenti che mettono d'accordo un po' tutti, si cominciano a votare senza neanche seguire gli emendamenti e questi sono risultati. Quindi un bilancio di 7 miliardi di euro nella totale opacità, rispetto di quanto andava dicendo il sindaco Marino in campagna elettorale che parlava di trasparenza, cambiamo tutto, tutto quanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.